Ci sono 20 giocatori in 15 metri praticamente. Di Bala, Iguain, Di Bala, grande frase c'è fra i due, ancora per Di Bala, che si gira per Iguain, Iguain, la intero, la rete negola e non si alza la guadagnina dell'assistente, questo è un gol bellissimo. Si può dire un gol a Sane, come piace a lui. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.